18 dicembre, dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco. Solo l'Evangelista Luca e l'Evangelista Matteo cercano di gettare un po' di luce sugli anni dell'infanzia di Gesù. I loro racconti sono pochi, asciutti, ma di una intensità estrema. Se Luca si concentra su Maria, Matteo sembra schierarsi dalla parte di Giuseppe. Ma la storia, vista dagli occhi di Giuseppe, appare ancora di più difficile e complicata. Infatti, deve essere stato difficile per quest'uomo dover accettare di trovarsi davanti alla gravidanza della donna che amava, vedendo in un solo istante crollato ogni suo progetto. Ancora di più l'amaro in bocca di sentirsi ferito, tradito nella fiducia, e nonostante questo continuare ad avere preoccupazione per lei, affinché non la uccidessero. Giuseppe è davvero un uomo giusto, ma per essere santi non basta essere giusti. Bisogna superare la giustizia, bisogna entrare nel territorio più esigente della fiducia in Dio e non nel semplice buon senso o buon cuore. È un sogno che ribalta ogni cosa. E anche questo dettaglio fa rimanere di stucco, perché se a Maria è riservato l'incontro con un angelo, a Giuseppe solo la normale esperienza di un sogno. Come ci si può fidare di un sogno? Eppure Giuseppe si fida. Sa che differenza c'è tra una cosa che sembra vera e una cosa che senti essere vera. In fondo al cuore, quando una cosa è vera lo sappiamo, e importa poco se è un sogno o un incontro ciò che te lo dice. La cosa che conta è seguire ciò che sai essere vero anche se ti conduce per strade e vie che non conosci e che non avevi calcolato. Giuseppe fa così. Si prende la responsabilità di ciò che gli è capitato e comincia a seguire ciò che sente essere vero nonostante tutto e tutti. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé e sua moglie. In questa annotazione credo ci sia tutto il cristianesimo che crediamo. Svegliarsi e prendersi la responsabilità di quello che ti sta accadendo, bello o brutto che sia, è ciò perché non puoi non ascoltare ciò che in fondo sai essere vero.